Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo lo spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 40 giorni tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino convertitevi e credete nel Vangelo. Carissime, carissimi in questa prima domenica di quaresima vediamo che Gesù è condotto nel deserto, è condotto nel luogo della prova in un'esperienza di radicale solitudine senza sconti, neanche per il figlio di Dio, che è tentato di scegliere tra una vita di successo, di comodità, di prestigio, come se Dio non esistesse, quindi contro lo stile dell'amore stesso di Dio. Ecco Gesù inizia nel deserto non subito proclamando e annunciando il Regno di Dio lo dice proprio attraverso il deserto. E questo perché? Perché lì gioca la partita decisiva, perché è una questione di vita e di morte e Gesù resiste fino in fondo a questa tentazione. Perché? Perché ai Suoi occhi la mia vita, la nostra guarigione, la nostra esistenza è più forte del suo prestigio, della sua ricchezza, del suo successo personale. E Gesù allora ci annuncia che il Regno di Dio è vicino, è presente in mezzo a noi, ma proprio perché ha imparato a stare nel deserto, a stare accanto a quello che Marco nel suo Vangelo chiama le bestie selvatiche. Quindi ha scelto di stare dentro le contraddizioni della storia, rinunciando a tane, a nidi di sicurezza, a tranquillità. Marco usa proprio questo verbo, il verbo stare, che diventa un programma di vita per il Figlio di Dio, ma anche per ciascuno di noi, dentro le nostre realtà di associazione, di comunità, di società. La tentazione è proprio qui legata a questo verbo, a questo verbo stare, che viene prima di ogni fare, prima di ogni dire. Perché è difficile stare. Semplicemente così, stare, senza pretendere di essere qualcuno, ma solo accettando di entrare in una situazione ben precisa, storica, che fa soffrire, che crea davvero quel senso di vuoto, di solitudine. Solo perché impariamo anche noi a stare con le bestie selvatiche, cioè quelle che abbiamo dentro di noi, che sono le paure, che sono le ribellioni, che sono i nostri interiori, i nostri ripiegamenti. Accettarli, accoglierli. E allora la vera tentazione è quella di pensare che possiamo fare a meno di questo passaggio, di questo deserto, di questa quaresima. E tutto potendo cercare delle scorciatoie, gli inganni, l'inoperosità, la delega, la trascortezza, la superficialità. Questo dentro le nostre famiglie, dentro la nostra associazione, dentro le nostre comunità stesse. Ma in questo modo è un tentativo illusorio di vivere la vita senza attraversare il deserto, senza incontrare questi percorsi di maturazione, di condivisione, di cura reciproca, di fiducia. Quindi Gesù nel deserto ci insegna a non fuggire, ma avere il coraggio di restare lì per lottare contro il maligno e noi per lottare insieme a Gesù, per gridare a lui, anche forse in questo dubbio, in questa crisi, in questa disobbedienza, ma per lasciarci addomesticare dal suo amore. Anche quando non riusciamo a capire, anche quando il dolore di una situazione, di un momento grave, ma questa è la vita e qui non possiamo fingere, non possiamo fuggire. Ma se restiamo, allora troviamo quel punto che ci fa cambiare, perché solo così si trova che la vita si rovescia e che quella situazione nella quale prima pensavamo di perderci, beh, in realtà ci permette di ritrovarci e quindi di vedere la realtà, le cose, le persone, Dio stesso, con un nuovo sguardo, con un nuovo cuore. Ecco loro il deserto. Tempo buono per dire che Cristo ci sta accanto nell'accettare i nostri deserti, le nostre bestie selvatiche. Tempo buono il deserto per lasciarci guidare dallo Spirito di Dio per cambiare mentalità sulle cose, sulla vita, vivendo, insomma, il Vangelo. Sia così davvero questa prima settimana di Quaresima per incamminarci dentro il deserto della nostra vita, ma per già intravedere l'alba nuova della Pasqua. A tutte, a tutti, buon cammino di Quaresima. Questa lunga pandemia ci ha abituati al distanziamento sociale. Sì, ci siamo detti che forse dovremmo chiamarlo distanziamento fisico, però non è solo un distanziamento fisico. Ha inevitabilmente comportato una riduzione delle nostre interazioni sociali. L'impossibilità di vederci di persona in presenza, come si dice oggi, rischia di portarci a chiuderci in noi stessi, sia dal punto di vista associativo che personale. Una tentazione ad aspettare che le cose tornino alla normalità, che influisce sia sulla nostra voglia di fare che sulle nostre amicizie. Un'apatia che coinvolge sia le nostre attività che le nostre relazioni. Ascoltiamo come Papa Francesco ci esorta a reagire al pessimismo e all'apatia. Sappiamo bene che la vita è fatta di alti e bassi, di luci e ombre, ognuno di noi sperimenta momenti di delusione, di insuccesso, di smarrimento. Inoltre, la situazione che stiamo vivendo, segnata dalla pandemia, genera in molte preoccupazioni, paura, sconforto. Si corre il rischio di cadere nel pessimismo, il rischio di cadere in quella chiusura e nell'apatia. Come dobbiamo reagire di fronte a tutto ciò? Ce lo suggerisce il Salmo di oggi. L'anima nostra attende il Signore. Egli è nostro aiuto e nostro scudo. È in Lui che gogisce il nostro cuore. Cioè, l'anima è una tessa, una tessa fiduciosa. Una tessa fiduciosa del Signore fa trovare conforto e coraggio nei momenti bui dell'esistenza. E da cosa nasce questo coraggio e questa scommessa fiduciosa? Da dove nasce? Nasce della speranza. E la speranza non delude. Quella virtù che ci porta avanti guardando l'incontro con il Signore. Dio non è lontano, sempre con noi. Appunto che tante volte bussa alla porta del nostro cuore. È Dio che cammina al nostro fianco per sostenerci. Il Signore non ci abbandona. Ci accompagna nelle nostre vicende esistenziali per aiutarci a scoprire il senso del cammino, il significato del quotidiano, per infonderci coraggio nelle prove e nel dolore. In mezzo alle tempeste della vita, Dio ci rende sempre la mano, ci tende sempre la mano e ci libera dalle minacce. Prova a pensare a qualcuno che non senti da tempo, oppure a qualcuno che pensi possa sentirsi solo e a cui farebbe piacere sentirti. Fai un piccolo sforzo e chiamalo. Una telefonata è un piccolo gesto, ma può aiutarci a uscire dall'apatia e a mettere al centro gli altri anziché noi stessi. Grazie. Grazie.